Sancta Maria Maria è rappresentata sulle ginocchia di Dio, vicino al suo cuore. Egli ha in mano il compasso, simbolo del progetto della creazione e della salvezza. Sulle ginocchia di Maria è Gesù Cristo, il Figlio, che benedice con la mano alzata. Dalla bocca di Dio esce lo Spirito Santo e scende verso Maria e il Figlio, che è la santità di Maria. Maria è vicina come nessuna creatura a Dio e nessuna creatura ha risposto così bene all'amore di Dio. Luca 1,28